Buon pomeriggio dal telegiornale della Toscana. In apertura torniamo ad occuparci della possibile chiusura di 59 piccoli uffici postali. Una decisione, questa delle poste, che ha provocato la reazione non solo dei cittadini ma anche dei sindaci e del presidente della regione Enrico Rossi, che questa mattina ha incontrato il sottosegretario Giacomelli proprio per trovare una soluzione. Un incontro positivo, ha detto il governatore, sulla vicenda dovrà pronunciarsi l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, ma il governo potrà fare pressioni. Susanna Giusti. Possiamo aspettare una settimana, non di più, aveva detto il presidente della regione Rossi, riferendosi alla mancata dialettica composta e sull'annunciata chiusura dei 59 uffici postali. Il governatore si era spinto anche oltre. Senza un accordo la regione potrebbe recidere i contratti composti e magari mettere a gara alcuni servizi. Lo stesso potrebbero fare i comuni, le ASL. E stamani c'è stato un incontro con il sottosegretario alle comunicazioni, Antonello Giacomelli. Spetta l'autorità garante per le comunicazioni, verificare il rispetto delle clausole sociali, ma il governo può svolgere una pressione nei confronti di poste. Giacomelli si è impegnato, ha preso impegno che avrebbe parlato con poste e che avrebbe cercato di rimettere in piedi un tavolo con la regione, con i comuni e con poste, per trovare una soluzione condivisa. Io mi auguro che questo percorso abbia successo e ci sono buone speranze, c'è una base positiva. La discussione sulla chiusura di una sessantina di uffici postali dislocati nelle frazioni montane era appena iniziata tra le proteste di sindaci e cittadini, quando è stata sospesa per la campagna elettorale. Poi poste ha comunicato a comuni e regione la decisione di chiuderne 59, salvandone 6. Se questo avvenisse, pezzi importanti del territorio della Toscana rimarrebbero sguarniti di un servizio fondamentale che riguarda gli anziani e noi a questo, se non si trova una soluzione, ci opporremo con tutte le nostre forze e con tutti gli atti che legittimamente possiamo prendere. Il governatore quindi non torna indietro. Inaccettabile il disagio che si verrebbe a creare a tanti cittadini, soprattutto anziani, come a Canevara, a Frazione di Massa, oppure a Buriano o nella rinomata Puntala. Sono tanti i paesi che vengono serviti da questo ufficio postale, casette che prima avevano il loro ufficio, adesso non c'è più, altagnana, ce ne sono tanti. Dovete vedere cosa c'è la mattina, al primo quando si è l'ora delle pensioni, acqua, vento, occhie, tutti fuori e vogliono chiudere queste persone anziane dove vanno. Già i sindaci hanno annunciato che faranno richiesta di sospensione al TAR.